Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere le migliori poltrone per rilassarsi a casa. In quinta posizione troviamo la poltrona elettrica Tidiard, poltrona reclinabile e massaggiante per rilassarvi in questa comodissima poltrona in pelle artificiale, tre livelli per impostare il livello di intensità come basso, medio e alto, dotata anche di funzione di riscaldamento nella zona della vita e otto punti di massaggio in cinque diverse modalità, ottima poltrona per rilassarsi, per maggiori informazioni trovate il link in descrizione. In quarta posizione troviamo la poltrona Relax Homecom, poltrona girevole, ferma e stabile, poggiata in una robusta base in metallo, poltrona reclinabile tirando la maniglia laterale e usando il peso del tuo corpo per reclinare lo schienale fino a 135 gradi, con poggiapiedi e schienale che si muovono insieme, rivestimento morbido ed elegante in semipelle nera e lino grigio, imbottita sia sullo schienale che sui cuscini per il massimo del comfort. In terza posizione troviamo la poltrona Cribble disponibile in tessuto con quattro colori diversi oppure in similpelle, poltrona facile da montare realizzata con materiali resistenti e imbottita per farti stare in completo relax a guardare la tv o leggere un libro, facile da reclinare spingendo leggermente contro lo schienale fino a raggiungere la migliore posizione per voi, per maggiori informazioni trovate il link di questa poltrona in descrizione. In seconda posizione troviamo la poltrona elettrica Baccagi disponibile in tre colori diversi, poltrona alza persone dotata di tecnologia all'avanguardia, controllabile da un semplice telecomando per reclinare o innalzare la poltrona, il sistema di reclinazione dello schienale e del poggiapiedi permette di distendervi completamente sulla morbida imbottitura della poltrona azionabile anche manualmente. Grazie allo schienale, alla seduta imbottita e ai due comodi braccioli che si adattano alla posizione di riposo delle braccia, questa poltrona vi regalerà puri momenti di relax, ideale per chi vuole rilassarsi o per gli anziani che hanno bisogno di un sostegno. In prima posizione troviamo i rene di Poltrone Italia, disponibile anche in altri due modelli e in otto colori diversi per scegliere quale si adatta meglio a casa vostra, la poltrona è dotata di un motore elettrico che muove schienale e poggiapiedi in maniera combinata fino alla posizione letto, potrete anche sollevare solo il poggiapiedi per stare seduti con le gambe comodamente distese, comoda poltrona imbottita che vi verrà consegnata anche con installazione in casa se lo richiedete al momento dell'acquisto e detraibile fiscalmente come spesa medica, trovi il link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione e se siete interessati, grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo. Grazie a tutti